Buon pomeriggio, siamo in ritardo di un'oretta rispetto a quello che ci eravamo prefissati, però siamo in Puglia e questo è concesso. Buon pomeriggio, un buon pomeriggio perché mi sembra un ottimo pomeriggio per potervi parlare di una cosa a cui io ho molto a cuore, che è l'enigma che non è l'essere o non essere di Amleto, come Gabriele può spiegarci benissimo, che ieri ha fatto questa bellissima performance ispirata dall'Amleto di Shakespeare, non è l'enigma che mi affligge, l'essere o non essere, ma è in quanto io, attore professionista nel campo teatrale, è la domanda come faccio io a non smettere di fare l'attore? E con questa inchiesta, con questa domanda, è nata un po' l'esigenza di incontrarsi in questo laboratorio. Ho proposto, io ho proposto proprio, a Isabella, se fosse un'attività di cui poter discutere all'interno di questa manifestazione di Spettacular. E grazie a Isabella sono qui, lei ha accolto questa mia domanda e oggi in qualche modo cercherò, insieme anche a voi, di rispondere, ma più che altro di accogliere una vostra risposta, perché in questo momento stiamo agendo a un laboratorio aperto. Io brevemente vi posso raccontare la mia storia, ossia, io mi chiamo Filippo Paola Sini. Già il mio nome e il cognome detto è un problema, perché io da piccolo mi trovavo in difficoltà a dire il mio nome, perché c'è un problema di P, ci sono troppe P, Filippo Paola Sini e poi la S dopo. Quindi c'era già una difficoltà nel enunciarmi. Quindi quando a volte ci sono questo tipo di problematiche, spesso e volentieri subentra una voglia di superarle. E questo superamento a volte accade anche grazie al teatro. Ma andiamo per ordine. Filippo, io, nel 1990, all'età di quattro anni, tre anni e mezzo, ricopro il ruolo di Filippo Paperotti a una recita scolastica del carnevale delle scuole elementari. Ho un ricordo vivissimo di quell'esperienza. Tanto che quel tipo di esperienza, quell'esperienza nella fattispecie, è filmata. Per qualche strano motivo io ho il filmino di quella recita. E c'è il filmato, oltre di me, che faccio questa cosa, di mia madre in prima fila, che piange guardando il suo figlio alto così, con una sorta di vestito di carta che simboleggia un frac, che a differenza di tutti gli altri bambini che facevano solamente il pesce, cantavo l'aria di Pavarotti. Quindi, dopo venti minuti di spettacolo, dove tutti gli altri bambini si esibivano e facevano solo, arrivo io e incomincio a fare sento sul viso il tuo respiro. Ancora me la ricordo benissimo. Primo un grande applauso. Continuo, la sapevo veramente tutta, secondo un grande applauso, finisco la cosa, tutto paonazzo che faccio. Un amore così grande, con queste mani, un bambino nano, che stava così... e tutti... e mia madre che piange. Ecco, quell'esperienza io la definisco l'innamoramento. L'attimo supremo, in cui l'essere umano, anche se non potevo definirmi cosciente di quello che facevo, ma ero conscio, esprime un'apertura, un grande amore verso qualcosa, che è poi anche l'imbarazzo di mettersi in scena, di farlo, che a volte viene superato nel farlo per qualcun altro, in quel caso c'era mia madre e anche altre persone, parenti, amici. Poi a un certo punto ci si dimentica, o meglio, si è bambini, cresci, nel mio caso io abito, nasco in un paesino delle Marche, in provincia di Ancona, si chiama Marzocca di Senigallia, una frazione fa 6.000 abitanti. In questa frazione mio padre è riconosciuto da molti come l'artista della città, cioè colui il quale ha una compagnia di teatro dialettale, colui il quale canta nelle manifestazioni dove si radunano gli amici e io continuo in questa situazione qui a crescere, cene, amici dei miei genitori, grandi musicisti, eccetera, eccetera, però tutto cosa così, fino a che continuando a seguire il lavoro itinere della compagnia dialettale di mio padre arriva il momento delle superiori, l'adolescenza e ritorna il teatro, ritorna il teatro e in che specie, in che modalità? Attraverso i musical e quindi il professore che poi ha rischiato di farmi bocciare quell'anno dandomi il debito due mesi prima dell'esibizione di questo musical mi fa ti andrebbe di fare questa cosa? Io avevo deciso di non fare teatro nella mia vita, volevo fare tutt'altro, volevo fare l'infermiere. Il problema è che avevano queste necessità a casa mia dai fallo, fallo che poi vai al teatro della Fenice che è questo teatro molto bello a Senigallia vai 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 spinto un po' così senza imparare a memoria la parte cantando una cosa farfugliando facendo finta di saperlo nel 2002 torno sul palcoscenico facendo Cats questo musical dei gatti una roba abbastanza allucinante io facevo The Theater Cats che era il gatto anziano e entravo tipo facendo finta di essere anziano così accompagnato da una ragazzina che era alta tipo così io già ero abbastanza grosso e mi mettono lì con queste orecchiette finte la calzamaglia e faccio mi 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 però di nuovo quell'applauso quella situazione lì e io questa cosa qui la descrivo come re-innamoramento o riavvicinamento da quell'esperienza lì dal 2002 fino al 2005 decido di prendere parte ogni volta ai laboratori di musical della mia scuola era l'unica attività che mi dava tra virgolette il motivo vero di andare a scuola a scuole superiori se no non avevo voglia di studiare già ero proiettato in altri mondi in altre cose pensavo ad altro morale della favola che ogni anno facciamo questa esibizione vanno sempre bene io bene o male mi barca meno in questa cosa un po' più per spirito di protagonismo che vero più goliardia fino a che nel 2005 arriva questo regista molto in gamba per quello che si può definire un regista di paese di una città di Senigallia che è un po' più grande di Marzocca ma comunque fa 20.000 anime che decide di fare un lavoro a tema sul movimento hippie degli anni 70 mettendo in scena Air il musico organizza un set musicale che suona dal vivo che per 5 mesi stava provando nella collinetta sopra casa mia che dista 3 km da casa mia e mi dicono se vuoi vai a cantare lì con loro che suonano hanno bisogno del cantante quando hai voglia e intanto una volta la settimana fai il laboratorio con noi di musical beh lì è successo un qualcosa ossia il primo step prove lavoro sulla musica sui testi con i musicisti cioè io praticamente mi ricordo che a 18 anni prendevo la mia vespa andavo in questa collinetta dove stava questa associazione queste persone adulte e fino a luna di sera nonostante io andassi a scuola ancora si provavano e io stavo lì e c'era questo meccanismo che piano piano mi stava corrodendo da dentro cioè avveniva questa situazione in cui io piano piano mi lasciavo trasportare da una serie di eventi per essere propedeutici alla scena ma io lì non me ne potevo rendere conto nel senso che lo fai più che altro per un trasporto perché poi i ragazzi fumavano quindi stavi lì avevi 18 anni la musica anni 70 io capelli lunghi loro molto più grandi di me sai sognavi già di essere più grande della tua età involontariamente arriviamo alla data della messa in scena lo spettacolo va benissimo incredibile nonostante problemi tecnici e c'è un momento molto particolare di quel 5 maggio del 2005 ossia dopo la quarta volta che siamo usciti e preso gli applausi dalla regia accendono la sala ecco immaginate un ragazzo di 18 anni che non aveva voglia assolutamente di andare a fare l'università di lavorare che credeva molto in quello che aveva fatto in quel percorso di anno lavorativo per andare in scena vedersi una platea gradinata quindi è ben diverso rispetto alle platee normali una platea ingradinata di 700 persone completamente esaltate da quello che avevano visto in piedi che applaudono e ti acclamano come se avessero visto come se fosse il gol all'ultimo minuto in una partita in cui ti stai giocando il derby un'emozione fortissima quella onda d'urto quell'onda d'urto è stato il momento in cui io personalmente ho deciso di ok questo è il punto da cui devi partire per riuscire a capire se nella tua vita potrei andare avanti nel percorso teatrale dal punto di vista attoriale presa questa emozione come tutti te la metti in tasca e durante l'estate ti prepari per i laboratori per i provini faccio i provini non ne passo neanche uno ve la faccio un po' breve riesco ad entrare in una scuola privata di Milano due anni di laboratorio durante uno di questi due anni alla metà del primo cioè dopo il primo prima di iniziare il secondo arrivo cioè arrivo alle ultimissime fasi del teatro stabile di Torino non passo quella cosa lì però ero a Milano ormai volevo stare lì non importa l'anno dopo ho finito questo percorso mi ritrovo di nuovo che faccio avevo 21 anni dove vai per puro caso mi chiamano dalla Valle d'Aosta un corso di alta formazione teatrale per teatro di ricerca vado lì riesco a fare il laboratorio prima messa in scena primo contratto di scrittura ufficiale come attore però era ancora sotto periodo di formazione settembre 2000 dicembre 2007 la prima giornata di lavoro pagata pardon dicembre 2008 prima giornata di lavoro pagata 22 anni 22 anni a giugno finisce il laboratorio facciamo una mini tournée teatro nuovo di Napoli Lecce e Coreia Ponte d'Era Teatro a Valle d'Aosta e lì finisce qualcosa ossia finisce il periodo in cui io decido di dedicarmi alla formazione e inizia il periodo in che cosa fare dove andare perché farlo vuoi ancora fare l'attore che secondo me è il momento più difficile perché molti lo immaginano come una salita in realtà lì non era una salita lì c'era il deserto cioè lì c'era una distesa di sabbia che ti invitava a percorrere quel cammino ma fondamentalmente non c'erano punti di riferimento questa mancanza di punti di riferimento fa sì che io decido di fare una scelta per quanto mi riguarda abbastanza strana però quella di tornare sui miei passi e ritornare a casa abbattere completamente le spese del vivere fuori perché comunque non potevo chiedere dopo che per tre anni la mia famiglia in qualche modo mi aveva sostenuto di continuare a farlo torno a casa e parto da zero ossia dico qual è il modo per cui io posso in qualche modo iniziarmi al lavoro così tramite quell'associazione che nel 2005 aveva tra virgolette creato i presupposti per poter far sì che io decidessi questa cosa che era questa associazione musicale dove io andavo a fare le prove per il musical vado da loro con un progetto ben definito molto preciso e io avevo 22 barra 23 anni e gli dico io voglio organizzare una stagione di tre una manifestazione teatrale una rassegna ho bisogno di questi soldi i nomi che vi chiamo sono questi con una serie di sforzi inenarrabili riesco nel 2009 in estate 30 luglio 1 e 2 agosto a chiamare Roberto Magnani del teatro delle albe con un fortuitissimo caso nel senso che il tecnico delle albe si fa male Marco Martinelli deve venire a fare le luci dello spettacolo di Roberto Magnani Odisea in un parcheggio a Marzocca io ho questa immagine di Martinelli con i scooter che gli giravano attorno e poi la cena con della gente improponibile che sta di fianco a Marco Martinelli che gli parla di Pierluigi Ghina personaggi tutti allucinanti e Marco che alla fine io lo guardo un po' spaesato mi dice no dai mi sono trovato molto bene vai avanti teatro delle albe sto parlando per chi non sa teatro delle albe l'1 agosto Roberto Corradino con cui poi nascerà una partecipazione lavorativa e 2 agosto Roberto Latini in tre giorni vengono tre maestri per quanto mi riguarda del teatro a cui io tenevo moltissimo a casa mia ospitati a casa mia con mia madre e mio padre che fanno da mangiare per loro organizzando anche una sorta di laboratorio condotto da Roberto Corradino con dieci iscritti tutto da solo quella cosa lì poi nel tempo ha portato i suoi frutti però non bastava nel senso che la prima cosa era andata allora l'anno dopo decido di alzare ancora di più il livello del progetto e nasce da parte mia spalleggiato da questa associazione che ormai non ne poteva più di me aveva capito che io avevo altre mire e volevo cercare di portare il teatro in un'associazione musicale dove le cose più interessanti erano legate alla musica decido di alzare il tiro e proporre un progetto da 30.000 euro in cui c'è di mezzo la costruzione di uno spazio musicale uno cinematografico e la realizzazione di due rassegne teatrali da questi 30.000 euro per una serie di vari motivi ne riusciamo a avere 20.000 un incremento del 100% rispetto a quello che aveva avuto fino a quel momento l'associazione vengono realizzate tutte le attività tutte nella fattispecie le due rassegne teatrali una a primavera con meno 20 teatro quotidiana.com i Nani che era un altro gruppo che fecero anche residenza lì di Roma e un altro gruppo che poi adesso non mi ricordo però erano no erano tre loro tre ah sì Eric Sogno che è un caro amico nonché assistente alla drammaturgia di Antonio Tarantino che presentava un suo testo quella manifestazione lì va molto bene e allora in estate decido di dire ok io mi sono fatto un culo grosso così così quadrato adesso io scrivo il mio testo mi prendo la mia produzione all'interno di questo budget e realizzo il mio spettacolo chiamo questo Eric Sogno insieme a Elena Serra che poi è l'assistente alla regia di Walter Malosti o ancora e gli dico questo è il mio testo io voglio che tu fai l'attore e tu fai la regia vi pago tot la cosa avviene facciamo lo spettacolo lo spettacolo per vari motivi non ultimo il fatto che con l'associazione ormai eravamo saltati completamente va e non va io però pago immediatamente tutto e tutti perché non esiste secondo me lavorare e poi non avere i soldi immediatamente vado a fare le analisi del sangue prima di partire per il primo viaggio dopo un anno e mezzo di duro lavoro e gli dico visto che sto partendo fra un giorno potreste darmi le analisi il prima possibile e guardi signor Paolasini non so perché qua non è che stiamo tutti dietro a lei e non lo immagino grazie al pomeriggio io ero steso su il letto così un po' in ripresa perché poi quando ti capitano queste attività il giorno dopo è il giorno più pesante perché stacchi la spina e non capisci niente proprio sei una salamandra mi chiama suona il telefono vado a rispondere pronto è l'euro lab e lei è il signor Paolasini sì sì mi dica senta ma lei ha fatto le analisi del sangue sì guardi lei ha i valori del fegato che sembrano uno da epatite eh? no qua ci sono le transaminasi a palla io avevo 24 anni e lì decisi che in qualche modo la mia vita doveva cambiare sicché in maniera molto fortuita riesco a beccare una chiamata una call di Roberto Corradino per un laboratorio di propedeutico la messa in scena qui in Puglia a Bari vado e lì incontro Gabriele inizio questo laboratorio scopro che c'era stato un laboratorio questo laboratorio aveva praticamente già delineato un po' il cast e io mi ritrovo un po' così esterna alla cosa per una serie di fortuiti casi che non vi sto neanche a spiegare non ultimo un'illuminazione avvenuta l'ultimo giorno a disposizione riesco a fare una cosa per cui io entro in questo spettacolo nasce l'esperienza di cuore come un tamburo nella notte spettacolo che abbiamo fatto in vari posti in un ultimo all'uomo basta al piccini abbiamo fatto una è stata una e lì è stata l'esperienza diciamo prima vera esperienza da attore scritturato con tutti i pro e i contro che non vi sto neanche a spiegare che ce ne sarebbe da discutere un altro spettacolo insieme da quella situazione lì e vi racconto questo aneddoto esce un fatto io avevo appena iniziato le prove di un altro spettacolo che è con Antonio Di Nitto e Romeo e Giulietta torno dalla prima residenza ero in pigiama a casa mia a Bari sempre post labori quindi sei sempre stravolto mi chiama Alicia Lanera o mi manda un messaggio non mi ricordo su Facebook e mi dice uè guaglio ma lo sai che si segnalate come miglior under 30 due nomination ai premi Ubu io no eh vado a vedere vado a vedere effettivamente succede questa cosa ecco l'immagine in una fredda giornata perché poi di solito sono adesso le nomination io in pigiama completamente avulso da tutto questo scopri che tutto quel lavoro ti è valso questo che poi non vale niente però mi ricordo questa immagine di io che capavo che pulivo i fagiolini in casa a Bari così e queste sono altre esperienze altri quadri immagini che portano avanti la voglia di dire ok forse è il caso di continuare continui 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 e poi lì nasce la voglia di fare degli investimenti questi investimenti passano attraverso però la scelta di dove andare a vivere nel senso che a un certo punto un attore alle prime armi come me decide non ho casa o meglio la mia casa è nelle Marche nelle Marche io non conosco nessuno avevo incominciato a collaborare e poi è diventata una collaborazione ormai attiva con in teatro Polverigi che è una realtà stabile di teatro di innovazione con cui faccio più che altro teatro ragazzi però non c'era motivo di rimanere a casa tanto più che comunque credevo di aver bruciato e ancora penso di aver bruciato tante mie possibilità per via di un impegno troppo elevato a una giovanità senza aver coscienza di tutto questo e quindi nasce una domanda in Puglia non voglio più rimanere dove vado? e incomincia la fase girovaga nomade che è un po' la cosa che mi contraddistingue anche adesso io ossia nel 2011 decido di andare a vivere per una serie di vari motivi in Toscana inizio una collaborazione con il teatro sotterraneo e in più nasce con uno ex attore del teatro sotterraneo Jacopo Braca l'intesa di fare uno spettacolo che è stato realizzato poi di recente a Zoom che è un festival a Scandici da Giancarlo Cauteruccio un anno di vita a Firenze tutto quello che comporta e adesso mi ritrovo di nuovo punto e a capo cioè scegliere di nuovo dove andare a vivere ho cercato brevemente di raccontare la mia storia intanto perché ogni tanto mi diverto a ricordarmi chi sono e poi per cercare di spiegare che cosa che dal 1990 che c'è stato l'innamoramento 2001 che c'è stato il rinnamoramento 2005 che c'è stata la fase della chiarificazione del voler fare qualcosa a livello teatrale diventare formarmi in qualche modo dal 2006 2008 la formazione 2008 2010 11 una fase di come iniziare a entrare nella professione 2011 2012 2013 che stai in un processo di creazione e produzione attiva cioè io sto lavorando con due compagnie in questo periodo più da freelance o comunque in progetti nuovi futuri con altre due la la sesta fase settima fase anzi se non sbaglio con i conti che è la fase che mi interessa adesso che mi chiamo Filippo Pavolasini ho 27 anni sono di Senigallia ma ho vissuto a Milano in Valle d'Aosta in Toscana Bologna Bari Lecce in Puglia che ho girato e ho dormito almeno una volta in tutte le regioni è come posso continuare anzi come posso non smettere ed è nata una parola in quest'ultimo periodo per scherzo e questa parola era monetizzazione la parola monetizzazione e la domanda è come può un attore utilizzare questa parola in un campo dove da quello che è sembrato oggi o anche ieri sì dal punto di vista organizzativo ci sono tante possibilità per poter monetizzare ma io non voglio stare dietro un computer a scrivere bandi non me lo posso permettere perché sennò divento un programmatore un organizzatore ma come attore come posso utilizzare questa parola in qualche modo dando dei punti di riferimento a me stesso però dando dei punti di riferimento a me stesso vuol dire inquadrarti in una certa dinamica cerco di parlare ancora meglio vivere in un posto far parte di una comunità di un qualcosa però viste le situazioni da adesso lavorare solo per una persona non ci campi quindi in qualche modo devo cercare di implementare la mia possibilità di lavoro però questo comporta che non appartiene a niente allora incomincio a dire benissimo forse è il caso di rimettersi in giro e lo sto già facendo però in realtà la cosa che mi interessa capire ed è il motivo per cui ho deciso di fare e di proporre Isabella a questo laboratorio è di farle a voi queste domande o meglio qui di seguito io ho cercato di fare otto quesiti otto domande che in parte rispecchiano un po' le mie tappe primo perché credo che in qualche modo ci sia un'universitalità un'universalità ecco la parola giusta delle esperienze secondo perché voglio veramente capire se la mia esperienza in qualche modo può veramente portare a questa cosa della monetizzazione e con monetizzazione intendo non il guadagno in termini di soldi in termini più che altro di come continuare a farlo il mestiere cioè io non potrò mai sperare di avere una ricetta per i soldi anche perché se no a questo punto ognuno di noi la attuerebbe e forse non staremmo neanche qui a parlarne più che altro vorrei capire io ho delle proposte però vorrei capire anche da voi se intanto questa cosa è condivisa quindi detto questo io farei un momento il questionario che ci vuole veramente 5 minuti quindi ve lo do è una cosa totalmente libera io non vi costringo a farlo però se lo fate mi fa molto piacere perché tanto siamo tra noi e di seguito andrò a leggere anche le domandine cercando di capire se sono chiare ecco io direi anche fai anche tu se hai una penna sì sì benissimo allora è chiaro che in questa cosa io mi sono messo molto anche dal punto di vista teatrale lavorativo a pensare alle domande però mi piacerebbe pensare che queste siano delle domande generiche ossia già il titolo io mi domando cioè potevo scrivere io mi domando no io mi domando cioè secondo me queste sono domande effettivamente da fare o meglio sono utili a qualcosa quindi è tutto un quesito ma andiamo poi di seguito allora la numero uno è ricordi qual è stato il tuo primo incontro con il teatro se sì descrivi brevemente luogo anno e cosa è accaduto e che cosa è accaduto per me è molto importante il ricordo preciso delle cose perché poi è anche il focus per quanto mi riguarda più sei focalizzato su un evento più quell'evento è chiaro e ti lascia veramente qualcosa nella tua vita secondo punto qual è stata la reale prima esperienza che potresti definire di stampo teatrale mi sono divertito stampo teatrale perché mi piace un po' stampo mafioso stampo teatrale l'esperienza cardine proprio quella lì descrivi brevemente luogo anno e che cosa è accaduto massimo cinque righe tre c'è nell'arco della tua vita un evento un momento cioè proprio il fatto che puoi individuare come il colpo di fulmine chi ha chiarito la volontà di voler lavorare nel campo del teatro se sì descrivi brevemente luogo anno e come è accaduto e se ti ricordi le emozioni provate ecco sulle emozioni io ci tengo molto perché è una cosa che mi piace molto capire anche ecco la pasta a volte questi questionari sono molto freddi invece mi piace che ci sia l'aneddoto che poi è il motivo per cui facciamo forse questo mestiere i ricordi mi ricordo di queste cene bellissime a base di cibo e musica a casa mia dove succedevano cose inenarrabili e da quel motivo lì poi ci siamo ritrovati io e la mia famiglia perché nella mia vita ecco un altro fattore molto importante è la mia famiglia cioè le persone che in qualche modo scommettono su di te non ve ne ho parlato ma penso che sia implicito e li ringrazio ogni volta pubblicamente sono il mio pubblico preferito ormai perché senza di loro io forse non starei qua forse è anche un problema però comunque alla quattro invece una volta appurata la scelta cioè quella di voler fare teatro attività quali sono stati i processi di formazione che hai attuato per diventare un professionista del tuo settore elenca le tue esperienze formative accompagnando la lettera P che sta per a pagamento G che sta per gratis una volta completato il tuo processo di formazione questa è la 5 come hai cercato di metterti nel mondo del teatro professionale quali strategie hai adottato qualora tu abbia fatto provvini o stage propedeutici alla produzione di uno spettacolo elenca al massimo le tre produzioni registi tra virgolette le persone con cui ti è capitato di fare questi provvini per importanza lavorativa la sesta questo processo di avvicinamento questi laboratori queste attività come nel mio caso organizzare due manifestazioni o mettere in scena un testo teatrale mio scritto da me che cosa ha portato hai veramente iniziato ad essere un professionista se si elenca i maggiori lavori professionali in ordine cronologico in importanza rimunerativa e di riconoscimento specificando però e questa è una cosa molto interessante per me per ognuno dei lavori fatti le mansioni svolte all'interno della produzione cioè attore e basta attore autore dei testi o attore e amministratore di compagnia cioè per ogni produzione di queste tre più importanti o comunque per i tre lavori quante mansioni hai dovuto ricoprire per poter adempire alla tua mansione sì sì perché le righe sono sette poi vi spiegherò il motivo per cui ho fatto questa cosa qua mi sa che si è spento il microfono è finita la pila va va non è rosso ah tu lo senti perfetto no 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 è perché non lo vedevo più rosso sette al giorno d'oggi a che punto sei arrivato o arrivata sei soddisfatto soddisfatta nel panorama teatrale come ti collochi cioè chi sei qual è il tuo ruolo la tua posizione otto se utilizzassi la parola monetizzazione nel campo teatrale che cosa ti viene in mente se ti viene in mente qualcosa pensi possa essere qualcosa di realizzabile se sì in che maniera e soprattutto con che tempi ecco io se volete rispondere a queste domande se avete domande da applicare a queste domande perché non è chiaro qualcosa io sono qui boh allora buon lavoro se volete un po' d'acqua io bevo a queste domande Acqua, bicchieri puliti. Ah, è chiaro che queste domande a cui vi chiedo di rispondere, qualora vogliate, verranno confrontate con quelle degli altri. Cioè facciamo un momento di incontro proprio, anche perché credo questa rete di cui si parla tanto, di cui si sente parlare in questi giorni, in qualche modo credo sia importante anche definire come una rete, oltre che lavorativa, anche esperienziale. Perché in questi giorni, in queste ore, ho sentito parlare molto di numeri, di pubblico, però in qualche modo non si parla mai dell'attore, che è la figura che in qualche maniera se la prende sempre un po', non dico nel di dietro perché non voglio essere volgare, però nel culo se la prende in qualche modo. E quindi già non dico in maniera, oddio, mettiamoci in cerchio, parliamo della nostra storia, queste cose qua, sia fondamentale. Però capire se c'è anche un processo comune a tutti, in questa fase, in questo periodo, per arrivare veramente a diventare un professionista. Perché se non ci campi, per quanto mi riguarda, cioè se non guadagni almeno un minimo, che poi sul minimo ci si può anche discutere, mettere a discutere, per me non sei un attore, non sei un artista. Sei uno che in qualche modo viene aiutato da qualche altra persona per esserlo. Invece io sto facendo una lotta continua per far sì che la 100 euro che magari mi escono i miei genitori tutto il mese non avvenga. Perché finché io, per quanto comunque ho già chiesto da un paio d'anni il sussidio di disoccupazione che poi hanno tolto, questo è un altro discorso, quindi le giornate lavorative ci potrebbero anche stare per definirmi un professionista. Se io non ho quella 100 euro, io non riesco ad arrivare in qualche modo alla fine, pur essendo un attore che non è mai sceso a compromessi e che ha sempre cercato di lavorare in progetti che interessavano in primis a me. Perché anche questo è un altro aspetto importante. E soprattutto essendo un attore che da quello che vi ho raccontato mi sembra abbastanza ovvio, non essendo mai entrato in uno star system di scuole teatrali, riconosciute, con tanto di... Il passaggio da... Il passaggio da... è un attore che è uscito da un'accademia e il chi è molto... Io ho fatto i miei percorsi, però in qualche modo non essendo mai... Voi, vado a dire. Oh, Vale, ho una roba per te, va? Bravo. Sì, no, scrivi, fai, fai. Vai, vai. Tanto tu già la sai la mia storia, quindi non c'è nessun problema. Ci si domandava un po' di cose. Sì. Cioè, no. Se non ti va, no. È libero. E infatti, infatti, quando le avevo scritte, poi dopo per una questione di prolissità mia, perché chiedevo un rigore nell'essere un po' di cose. Ero brevi e avevo fatto delle domande più lunghe della risposta. Quindi non mi sembrava una cosa. Se combaciano, avevo scritto, infatti, allunga l'aneddoto. L'hai fatto? Allunga l'aneddoto della prima. Ma fai idea? Anche perché dopo che l'incontro con Mangolini, stringi, devi stringere, sintetizza. Ma scusa, ma che cacchio è? C'è? Perché c'è la mia parte? C'è? C'è sta, eh? C'è sta. No, in qualche modo mi sono divertito a creare un mio processo e a cercarlo di riproporlo in queste domande. Mi sono fatto universale. Ma... A tutte? Meglio. Ma se togli la parola teatro e metti quella musicale? No, certo, è chiaro. Meglio di no. Allora, scusa, visto che loro stanno scrivendo, no? Io, mi viene da farti una domanda. Cioè, secondo te, almeno nell'ultima, è possibile... Per trovare il suo coso? Per trovare il suo coso? Io, io... Io, 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 io... Pensavo fosse anche un momento di... L'impressione, una espulsione di qualche idea, di qualche traduzione, qualcosa di... Qui? Eh, io c'erano un po' di fatto che... Comunque è interessante la stazione... No, no, cioè, per esempio, già una mia risposta a questa potrebbe essere... Oggi come oggi la risposta a un enigma non te la dà nessuno, perché chi se la tiene per sé fondamentalmente, punto primo. Punto secondo, bisogna in qualche modo, uso questa parola bruttissima, con imprenditori di se stessi, imprenditori di se stessi non è male, imprenditori di se stessi vuol dire in qualche modo trovare già da te una soluzione. Faccio un esempio stupidissimo. Quando a un certo punto io quest'anno, a settembre, mi sono ritrovato che dopo aver in un anno realizzato sei produzioni, sei, tra le più piccole e le più grandi, ma ero sempre un po' il punto a capo. Un giorno a Torino, ero a Torino, vedo un negozio bellissimo, Scavino, non so se conosci, però è uno dei negozi musicali del settentrione più belli in assoluto, e mi viene una gran voglia di entrare dentro e provare una chitarra, io suono un po' la chitarra. Beh, ho visto una chitarra, una Yamaha acustica, e mi è nata un'illuminazione, e mi son detto, perché io poi sono un po' così, cioè se io veramente non riesco a fare cultura, non dico teatro in Italia, però se aumento la cosa e dico se io in qualche modo non riesco a vivere del lavoro che io voglio fare, che è un lavoro del tutto culturale o artistico, io mi compro una chitarra, parto dalla Sicilia, faccio tutto un percorso a piedi, e arrivo in Piemonte quest'estate, e voglio vedere se avvicinandomi io, io in primis alle persone, come la gente mi guarda, come la gente reagisce a questa cosa, come la gente in qualche modo reagisce anche economicamente, perché io ci voglio campare di sto mestiere. E questa era un'inchiesta che io mi sto ancora facendo e forse realizzerò quest'estate, poi il progetto è diventato più grande, si è deciso anche di mettere insieme altre persone, di fare con un finanziamento dal basso, creare un cd, avere già dei soldi in partenza con cui fare il viaggio, però se io non riesco alla fine di quest'estate a capire se effettivamente questo mestiere è possibile, io in qualche modo me ne devo andare. Cioè, chiedo alla mia famiglia un qualche cosa economicamente che mi possa sostenere per almeno un anno, esco dall'Italia e faccio o l'attore o qualsiasi altro lavoro da un'altra parte. Quindi questa è una soluzione. Però, io ho 27 anni, a me non me ne frega niente, non ho niente che mi leghi più che altro a qualche posto, se non i ricordi, le cose, le emotività. Però, mi son detto, se non sono io il primo a trovare un modo vero e autonomo, autonomo, perché questa è una cosa importante, cioè se tu non sei autonomo, tu certi mestieri, soprattutto quello artistico, oggi, secondo me, in qualche modo non lo puoi fare. Perché qua si richiede una lucidità che parte dalle 8 di mattina quando ti devi svegliare per fare il training, perché poi il training lo devi fare alla mattina, perché se no non puoi fare l'artista per quanto mi riguarda. A mezzanotte, quando vai a letto stremato ed hai fatto progettazione, prove se stai in prova, organizzazione se devi organizzare l'evento per cui la gente ti deve venire a vedere, perché magari non sei una compagnia importante, non ti conosce nessuno, quindi su Facebook inviti, eccetera, eccetera. E in più magari avrai anche da fare una telefonata perché c'è qualcuno che ti vuole bene, che ti vuole sentire. devi mangiare, se hai una casa devi curare, cioè, però tu lo devi fare. E ti giuro che se tu la fai sta cosa, tu sfondi, sfondi. Io non ce la sto facendo in questo momento, quindi forse non ha neanche valore la mia presenza qua. Però dico che in mente ce l'ho la cosa. e il giorno in cui fisicamente e mentalmente sarò pronto a farlo, forse questo sarà il primo inizio di quel discorso della monetizzazione. Perché ormai ti si chiede questo, una presenza e un rigore che a tratti è fastidioso perché dici che con tutto questo impegno c'è qualcun altro che guadagna 7-8 mila euro al mese. E invece stiamo a parlare di cifre che manca un impiegato al comune che fa le fotocopie. Io sono abbastanza riguro, cioè, sarà la mia poca esperienza, forse. Vabbè, come stiamo messi con... Oh, bravo Valenti. Sì? No, ma infatti... No, ma questa è una cosa importante. Cioè... Tu non leggi e se è un problema questo non è colpa mia. No, no, capito. C'è una scusa di massimo tre, Valentino. E la prima persona hai scritto un po' Tre. Se ne hai fatti due, ne scrivi due. Se ne hai fatti quattro, ne scrivi tre. Se ne vuoi scrivere due, se ne hai fatti quattro, è la tua scelta. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Cioè, essere sempre molto rigorosi nelle cose. Non a caso, questa cosa qua, e ormai ve la spiego, perché tanto penso che sarà, boh, non so, un'esperienza che mi piacerebbe riproporre, ma non so chi lo vorrà ancora, questo genere di format. Chi sa leggere bene le domande e chi in qualche modo risponde bene alle domande, secondo me, ha la possibilità di mettersi di fronte a quella cosa che sto facendo adesso. Quindi il laboratorio, in qualche modo, siete voi a farlo, non sono io. E mi fa piacere questa cosa, perché come a me serve per fare il quadro della situazione oggi, 25 novembre, ore 16 e 10? 16 e 4? 4 e 4? Fantastico, ritorna sempre sta cosa. È un periodo che continua a vedere sempre i numeri uguali, è una cosa fantastica. Forse è il momento giusto proprio questo. Dove dici le tue esperienze informative accompagnando la lettera di pagamento G gratis, cioè le esperienze per le quali tu hai pagato? Sì, sì. Cioè, ad esempio, io i primi due anni a Milano ho fatto questa scuola privata che costava 1800 euro l'anno ed è stata una cosa a pagamento che io ho dovuto pagare. mentre invece due anni dopo quando sono stato in Valle d'Osta ho fatto questo percorso di formazione molto interessante e così era tutto gratuito perché finanziato da da un progetto FSE. Così. ma se c'è qualcuno che ha già risposto iniziamo. te suoni il pianoforte, vero? La tromba. Suonando o come attore? e vedi per esempio anche questa cosa qua questa cosa qua mi ha deciso mi ha fatto quelle bestie uno spettacolo ah sì mi ha fatto un'elepria della tavola quindi io lascio la stanza sulle bestie ci siamo passati dalle due parole no no non mi ricordo perché non hai l'averti visto ma mi ricordo con quello ci sono passato su un accordiago di un po' con licenzo con licenzo ecco lo ti disse provate un percorso sì ok niente sì te lo dovevo chiedere con la mia vedi anche questa cosa qua secondo me è una cosa molto importante cioè riconoscere che cosa hai fatto all'interno di un processo di produzione in questo caso di spettacolo per capire anche la gente come ti vede poi perché è inutile che noi ci proiettiamo sempre in un'immagine legata alla nostra inquadratura cioè alla nostra soggettiva cioè se noi non riconosciamo che per fare questo mestiere un po' per necessità un po' per nostra sbogliatezza facciamo 150 mansioni in qualche modo la gente poi si abitua e o ti richiede sempre quella cosa lì e tu cresci e non hai più voglia di farlo o in qualche modo dici vabbè ma tanto quello lì fa 350 cose non ha bisogno di essere chiamato quindi quindi a un certo punto tu devi essere anche molto settoriale ma non nello scegliere che tipo di qualità fare alla fine dove ci stanno più soldi uno dovrebbe si lascia sempre tentare però però in qualche modo a volte il problema è anche questo cioè per esempio mia nonna dice sempre tu zio è tanto bravo è tanto buono fa tutto e non fa niente questa era una cosa che a me mi tormentava il complesso di mio zio Claudio perché è vero perché quando sei in grado di fare tutto fondamentalmente sei in grado di fare niente c'è della gente dei miei amici ignoranti veramente come le talpe che sanno fare bene una cosa che a me ci vuole anche due giorni a impararla a fare però vengono chiamati sempre per quella cosa lì e loro per tutta la vita camperanno grazie a quella cosa lì cioè non so se siete chiaro il discorso fai bene cioè se pensi che è una cosa che a te non serve sì sì fai molto bene oh l'avete fatto no? madonna seria proprio sta roba è diventata seria oh allora vorrei ringraziare tutte le persone che ci stanno guardando da casa qui i ragazzi stanno lavorando veramente bene si stanno impegnando c'è chi in maniera molto giusta ha scelto di non rispondere e noi li rispettiamo perché è una loro scelta sono no effettivamente basta infatti sì no in realtà le ho fatte lunghe apposta per perdere un po' di tempo perché ho 27 anni che cacchio vi racconto come sta andando lì le risposte che soddisfazione che bene 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 poi in tutto questo ci sarà una cosa molto carina che è la sorpresa poi del post lettura molto carina vediamo se riusciamo a farla perché non voglio rubare ci sei tu dopo no? no io penso che faremo molto presto adesso tu sei cinico nella vita lo sai? ti vedo molto cinico poi i capelli oggi yes poi queste cose ti prego conservale perché un futuro un giorno ve lo dirai ti ringrazio perché quel 25 non ti viene? no no cioè l'ultima cosa è cambiare mestiere ma hai una risposta sì però non me lo devi subito perché sennò mi rovini tutto il resto però ho sbagliato a utilizzare questa parola no vabbè ve lo voglio sapere dopo mi piace per monetizzare me l'ha detto Eric che è questo mio carissimo amico assistente vi dicevo di Tarantino mi fa allora io ho un figlio da portare avanti la mia moglie la mia compagna che mi ha lasciato adesso io ho in testa solo una cosa la parola a monetizzare ah Eric non sta più con Elena esce? ma non mi fa fa ste gossip così cioè io veramente Valentino ma com'è che con te se va sempre a finire su ste storie vogliamo parlare un po' di te vogliamo parlare un po' di te di streaming bene dai a sto punto io direi di iniziare perché così non togliamo si chi inizia la mia compagnia rilevante secondo me ho cominciato ho fatto una recita che mi ha detto e poteva vedere dai 6 ai 8 io cominciavo a fare teatro e non mi hanno detto affari del maggio è il bravissimo sembrava che la stella ci fosse per te da me non so bello cioè quindi è la prima è la prima è la prima e anche è la prima di futuri poi in altre cose sono i colleghi non c'è che ho fatto studiare perché cioè perché è la prima di strada cioè ha fatto diverse di teatro anche però tipo non sei riuscito a specificare quella è stata gratis sì pagavano è qualcosa che hai fatto a pagamento è qualcosa che hai fatto a pagamento fatto dei laboratori di impegni per te nella formazione sì per quello che hai fatto a pagamento è sicuramente e poi ha spesso è stato contento di poter dare la stessa risposta alla donna sempre che è a che punto sei arrivato non sei soddisfatto cioè non lo sai proprio no ok e per quanto riguarda la 6 cioè dai c'è una risposta no c'è nel senso dopo la pepe dopo binasco dopo emma dante eri prontissimo e questa cosa ti ha portato a fare lavorare con e in ordine di importanza come le metteresti anche se invece a livello economico si ribalterebbe un po' la cosa no sì sì no vabbè quello certo dai che ci segue dai Roby dai scusalo lo sai che c'è sempre stato questo problema questo conto aperto ah e poi a monetizzazione ho scritto sviluppare progetto un'inamica a scommi commerciali a torre dello stabile far mangiare il modello di un figlio e cambiare queste cose aspetta non ho capito stavo a pensare veramente alla prima monetizzazione ok sviluppare progetto un'inamica a scommi commerciali a torre dello stabile far mangiare il modello di un figlio e cambiare questi sono i tuoi le tue risorse far mangiare tuo figlio una monetizzazione no cioè la parola di monetizzazione ti fa pensare a dove far mangiare la monetizzazione ok bene grazie ah ops quanto abbiamo no vabbè dai eh cioè vabbè ci riesci a pensare a una piccola drammaturgia di queste cose in maniera consecutiva la drammaturgia si non so è chiaro quello che ti sto chiedendo cioè nello spazio che c'è qua non ce n'è tantissimo sotto cioè ti chiedo di fare uno spettacolino di quella roba lì dall'inizio dal punto 1 al punto 8 eh vabbè poi lo puoi anche improvvisare se ti vuoi scrivere dei punti in questa linea bianca perché vabbè andiamo avanti prontimo ciao ciao come ti chiami sono Rosanna ciao Rosanna adesso possiamo andare alla risposta numero 1 davvero come ho cominciato a fare l'attrice sì allora quinta elementare recita per la festa della mamma presentavo cantava e recitavo scritto ed esprime particolare comunque era un troppo cioè nel senso comunque era un troppo cioè la ferma un legno la maestra che ci faceva la recita ci faceva stare là così presentavano anche era statuario noi facevamo tutte le cose schematiche certo dove eseguero un percorso andavi e presentavi col foglietto qui tornavi nel coro e poi si creava il cerchietto e facendo lo spettacolo ce l'ho non mi devo venire queste cose stupendo quindi sono un po' tu per sé mi sa mi sa bella perché non c'è la mia storia vai buonasera bene una seconda una seconda prima esperienza di stampo teatrale allora io ho scritto direi quando ha sei anni circa ho iniziato a coreografare la ragazzata per i rossini e a crearsi una storia l'ho fatto per anni cioè l'ho fatto per ripetizione e mi facevo mi aspettavo l'ho arrivato però in realtà la risposta a questa domanda perché si è pieno saggiranza a dieci anni ero brava e non mi è piaciuto non essere protagonista perfetto il colpo di fulmine ovvero la terza attenzione credo intorno ai 18 anni ero totalmente a sociale e ho cominciato a interpretare barzellette ai 4-5 bici che avevo rilevano in questa cosa che dicevo che c'erano ottimo è vero no allora vai 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 si si no vai vai avanti la quarta adesso questa è la quarta cioè io sono interessatissimo vai vai tutto a pagamento tuo quasi tutto a pagamento tranne il progetto della regione che fici poi all'Aquila dove il primo durato dieci giorni però non mi ricordo neanche chi è che c'è stato sinceramente più durato quella è stata l'unica cosa gratis che hai fatto nella tua formazione questa è stata l'unica cosa gratis poi sempre a livello formativo come formazione come assistenza alla ripresa assistenza registrica regie varie laboratori di formazione queste cose a volte a pagamento cioè che mi hanno pagato a volte gratis a volte ci ho rimesso ok e così è ancora basta poi cinque ho completato il processo informazione lo cap provi ma io mi piace tutti quindi non sono stati laboratori sì con registi per cui poi ho lavorato ovvero variatore lo tarbato che è una vabbè vabbè sei riuscita a metterle in ordine percorso sì Maria Sole e Madanta e Mangia li vanno insieme quindi sono attualmente in corso ok e poi vabbè altre compagnie amatoriali le compagnie amatoriali di Fasano quando ho deciso di tornare a Fasano perché stavo a Roma prima ho deciso di tornare a Fasano comunque i primi contatti che sono stati loro quindi tramite scuole cose così come assistenza alla regia ho collaborato insomma anche a pagamento con compagnie anche amatoriali ok piccoline sono le notte ma sei riuscita a stare sempre nelle righe richieste? sì grande tutta tranne quella si è andata fuori però no erano sette però uno due tre quattro cinque 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 grande brava te fai veramente guarda non ti fa parlare questa domanda non ha finito non ascolti non c'è niente io guardo scusa 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 vai 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 io stavo mi faccio di appicinamento perché adesso sono una professionista ovviamente sono una professionista ma tutti quelli con cui lavoro mi versano i contributi e mi fanno i contratti quindi non lo so quindi aspetta questa è la settima no? scusa non tutti quelli con cui non tutti quelli con cui lavoro mi versano i contributi e mi fanno i contratti quindi per l'ottava io avrei una risposta hai mai pensato di denunciarli così potresti monetizzare così forse denunciare tutte queste persone la giornata è che cosa sia arrivata ma è soddisfatta sono attrice con un progetto laboratorio che è un progetto per gli adolescenti non autori per i quali sono una registra ma vorrei fare per un'attrice l'organizzatore 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 la mia mia esperienza con le loro mani è stata fallimentare quindi non lo so appena per il tesoro insomma monetizzazione risposta sto cercando di chiedere come sono venuta apposta qui vogliono tutti le risposte da sto spettacolare qua cercano tutti spettacolare il laboratorio cerca strong bene stesso discorso che ho fatto per Gabriele cercheremo di creare una brevissima drammaturgia in questo istante fra pochissimo della cosa ma infatti ognuno lo fa con le sue possibilità cioè proprio riuscire a sintetizzare in una piccolissima performance o recitina del percorso che hai fatto per quella cosa lì grazie, se vuoi te lo puoi appuntare dietro c'è un kit di Asia Argento c'è un po' il taglio l'occhio così prossima chi tocca? Valandè allora 1 1993 essere internazio della ginnastica dicione abbiamo fatto un sottotitacolo realizzato da giovani con la studia della ginnastica poi io sono il primo capito da me a 12 anni e e comunque ci devo ragionare insomma che sarà una mia esperienza una piccola come me erano tutti piccoli e poi i genitori che stavano in una scoteta alle 30 notte mi entrava in albergo la mia morte mi viene male e mi lascia così e mi ha detto Puglia in gita 10 anche Vale c'è il video vedi anch'io c'ho il video allora a questo punto la domanda numero 3 sì il colpo di fulmine quando ho visto quando ho visto chi ti è bravo in camera ma non si sente ma veramente devo parlare così e ma il colpo di fulmine non l'ho avuto cioè vabbè c'erano avuti diversi però l'ultimo che mi ricordo quando ho visto PH in occhio di Roberto a Roma il 2005 e ho pensato voglio fare quello che poi è un proprio stato pure emozionale proprio voglio fare quello voglio quello così figo Roberto sì 4 allora dal 2005 al 2009 ho fatto no ah ho sbagliato l'età dal 2005 al 2009 ho fatto il primo laboratorio con professionale con a pagamento con Anton Milieni poi l'ho seguito fino al 2009 in compagnia dopo il primo anno non ho più pagato ho fatto due laboratori il primo anno poi i tre anni successivi non ho più pagato dal 2009 al 2011 ho lavorato sempre con esperienze formative anche lì i primi laboratori i primi due li ho pagati gli successivi no perché poi siamo entrati in una sorta di produzione con Jean Paul Denison precedentemente ho fatto si sa i laboratori con altri insegnanti che X e Y e poi le esperienze in situazione cioè la formazione diciamo anche da tecnico non l'ho pagata l'ho fatta direttamente sul campo e così uguale la il resto la domanda 5 ho scritto non ci provo non ci provi come hai cercato di metterti nel mondo del teatro professionale no quella è la 6 la 5 ah scusa scusa non ci ho provato ah non ci hai provato scusa quali strategie hai adottato non ne ho adottate ho fatto una volta un profilo molto bello che poi ti è valso diventare il tecnico dello spettacolo si 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 poi una cosa adesso abbiamo ascoltato questi tre interventi questi tre questionari nessuno ha in qualche modo a questa domanda risposto che era la cosa che a me mi interessava molto di più rispetto alla domanda delle tre ipotesi produttive che ha fatto la i i le mansioni che aveva attore autore no vabbè no e questa è la 6 però 5 5 ah no scusa è vero la 6 la 6 scusa allora qui c'ho 2009 allora tre ho diviso per settori tre regie 2009 2010 2012 tre regie di studi finanziati su bando sul progetto il primo 2009 uno studio su una canzone popolare che si chiamava Maria Vita il 2010 ho vinto la residenza al CNOS sono stati solo che danni abbiamo lavorato sugli illuminati che è un testo di Vittoria Tambasco e il 2012 invece un bando come si chiamavano di tutto raggio però non c'era proprio un bando dietro un'altra cosa sempre un finanziamento con la residenza Talassia di Brindisi in diretta dalla Luna che è un testo di Francesco Santoro sono tre testi diciamo di drammaturgia contemporanea e tu in quella cosa lì facevi? regia regia e basta? sì non disegno luci? no no regia e basta poi l'attore l'ho fatto vabbè corrisponde più o meno ah sì con Miliene con Denison sempre in quegli anni che ho detto prima con la compagnia Arti e Mestri di Roma abbiamo fatto un Brecht in diretta della Luna facevo anche l'attore che è sempre la mia regia e poi adesso questa con Carallo Animal Skin ah Lagars è vero Lagars sì erano tre comunque sì Lagars ho fatto Lagars certo Lagars con Roberto Corradino Corradino Lagars e il danzatore con Carallo poi ho fatto la responsabilità tecnica negli ultimi anno e mezzo di cuore del festival Castel dei Mondi al Kismet il disegno luci per Vivo Quarto Mazzini e basta ti manca solo dei costrui in teatro a sto punto eh sì il prossimo 7 ecco io sono molto interessato a queste due 7 non so sono confuso cioè dopo aver fatto tutta sta roba giustamente uno risponde no però ho specificato non so sono confuso perché se tu mi dici che fai e poi io lo specifico negli ultimi due però eh ok allora non so sono confuso non capisco cosa si intende con panorama teatrale non lo conosco al di là delle residenze in Puglia e rispetto a quelle non mi colloco 8 sì monetizzo come tecnico recepisco soldi da bandi che compilo io insieme a chi penso alle persone con cui penso di lavorare e li investo il resto mi diverto boh ottimo vale anche per te se riuscissi a rendere teatrale questa cosa due minuti boh vediamo io è una suggestione che vorrei capire se è possibile ok adesso tu hai bypassato però non sono riuscita a scrivere in parte anche perché sono emozionata perché poi teoricamente spetta a me anche tenere una sintetica docenza e quindi probabilmente cercherò anche di rispondere successivamente certo certo insomma e quindi non è che non non lo faccio a priori ma in questo momento la mia testa non mi consente di essere concentrata come se fossi semplicemente da da questa parte certo certo allora io il primo incontro è simile a quello che raccontavi tu prima avvenuto un po' dopo nel senso che non avevo quattro anni ne avevo qualcuno in più ne avevo sette nell'88 un auditorium di una scuola elementare di cui ricordo benissimo tutto inizio fine ed era una recita di fine anno di terza elementare ricordo soprattutto mio padre che con la carta d'alluminio mi preparava al momento il costume da robot e io parlavo proprio come parlano i robot piccola ma non ho ricordo non ho pianto non ero emozionata ero a mio agio ecco ricordo la familiarità con il mondo e la gioia e il divertimento nello sperimentare un mondo per me non era lo spettacolo non era il teatro era proprio un gioco e ricordo che non c'era mia madre perché lavorava e mia madre lavora alle poste tuttora per lei la mattina era impossibile ecco l'unica grande tristezza è stata quella che mia mamma non era presente non era presente e nel 98 invece passando alla domanda 2 ho incontrato Elvira Mezzani che era la regista della compagnia teatrale La Differenza ricerca e produzione e con lei c'è stato il vero incontro di stampo teatrale cioè questo laboratorio sulla figura di Medea che è stata proprio una scoperta di un mondo un mondo fatto di amicizie dell'amore per la lettura di questa donna che nel suo essere proprio fisicamente piccola e molto dura che tendeva ad allontanare i ragazzi di 18 anni 17 anni tutti lì frizzanti e lei invece con questo suo atteggiamento all'inizio molto duro ha selezionato senza metterci in competizione e poi di là insomma il vero colpo di fulmine domanda 3 è legata per me alla 2 da questo punto di vista perché ricordo gli occhi e le parole di Elvira nella parte finale del laboratorio in cui lei mi ha detto c'è la possibilità di incominciare un percorso formativo due erano le strade andare fuori o rimanere andati pur non essendo la mia città mi trovavo a vivere per questioni familiari e lei mi ha detto se hai voglia di non andare fuori e rimanere qui c'è la mia compagnia io cerco sempre giovani persone motivate per cui vieni e vedi un po' per cui per me appena finita la scuola a settembre l'iscrizione all'università è stata una cosa voluta dalla famiglia per cui l'ho lasciata lì l'ho fatta per un po' molto controvoglia perché non mi ha stimolato in niente pure lettere moderne indirizzo teatro per cui ci dovevano essere tante porte invece proprio di un'aridità incredibile e poi è cominciato il aspetta perché ho perso tempo a scrivere te lo potevo dire a parole rimanere molto su quello che hai scritto che mi interessa di più e quindi il vero e proprio colpo di fulmine è avvenuto durante lo studio del monologo di Medea quello in cui Medea decide di uccidere i suoi figli in questa chiacchierata con Elvira per cui scoperta di come nascono le emozioni più che dirti quale emozione ho provato ne ho provato un turbinio proprio su questa cosa qui e domanda 4 la formazione principale per me è avvenuta nella compagnia quindi ho fatto proprio la gavetta ed è stata G è stata gratuita nel senso che ho trovato una persona per me è stata una fortuna incredibile una persona che ha detto io ho voglia di formare un'attrice per cui è stata gratuita poi ho fatto stage laboratori a pagamento gli altri sì però il vero zoccolo duro della formazione è stato gratuito e poi l'immissione nel mondo del lavoro è avvenuta naturalmente con la compagnia La Differanza che oltre alla formazione poi mi ha introdotto nel mondo lavorativo iscrivendomi all'Empals spiegandomi che cos'è un ufficio di collocamento settore spettacolo cos'è l'Empals portandomi alle riunioni anche degli operatori dello spettacolo dal sindacato agli uffici dell'Empals farmi vedere proprio come funziona questo mondo e poi tra i lavori che ricordo a parte quelli con Elvira ultimi più ultimi un lavoro con Gianni Ciardo che è stato proprio è un regista un attore soprattutto comico che si è cimentato con questo a casa di Bernard Alba facendo questa scommessa su un gruppo di sole donne lui che è regista e solo di se stesso si è messo così è stato molto interessante e Massimiliano Verardi che è un regista di Lecce con il quale abbiamo fatto i monologhi della vagina dopo un provino anche a me non piacciono i provini tornando a quello che dicevi tu però purtroppo a me ogni tanto capita anche che vadano bene cioè di trovare gente seria è difficile ma capita e poi attualmente con Vito Signorile dopo un colloquio provino ma noi ci conoscevamo già adesso continuo a lavorare con loro sei quale processo di avvicinamento che cosa ha portato e ho cominciato subito a lavorare come professionista grande fortuna e tutti i lavori che ho fatto sono sempre stati remunerati in qualche modo parlo proprio da un punto di vista economico perché sono convinta come dicevi tu prima che se non c'è un rinuncimento economico non c'è un lavoro vero e proprio diventa un hobby diventa un impiegare il tempo in maniera costruttiva e non ho fatto un elenco perché mi hai portato fretta e mi sono cimentata ecco il ruolo che tu ci tenevi tanto io ho sempre fatto l'attrice la regista l'ho fatta in tre progetti che hanno avuto vita breve perché qua in realtà è la vera scommessa che richiama anche un po' la parola monetizzazione cioè la distribuzione l'organizzazione e qua siamo un po' tutti carenti noi attori e poi ho fatto una piccola esperienza nell'ambito vendita che non è fatta per me infatti ho tagliato corto non è il caso al giorno d'oggi eh oggi sono in procinto come tu pensai di portare in porto un progetto personale importante di cui non parlo perché è veramente ancora un cantiere e sono soddisfatta e insoddisfatta nel senso che sono contenta di quello che ho in mente e l'insoddisfazione deriva dal fatto e l'ho ripresa nella 8 che la monetizzazione per me in questo momento è creare una possibilità di ricchezza attraverso gli incontri è un po' di tempo che io dico secondo me invece di essere isole e noi siamo personaggi animali chi più chi meno istrionici no? sicuramente Valentino che è scomparso è un personaggio io non lo conosco però è entrato e richiama l'attenzione l'attore è un po' così poi ci sono persone un po' più timide introverse però fondamentalmente siamo dei personaggi ma siamo isole e quindi che cosa ci può aiutare metterci in relazione e quindi può essere realizzata la monetizzazione anche se con molte difficoltà cioè bisogna essere aperti per come la vedo io a dare un pezzo di sé e non arroccarsi dietro no per me si fa così e così ma all'ascolto che è una cosa di cui c'è bisogno e con tanta capabilità si può monetizzare bisogna avere la testa dura e i tempi in questo momento non te li so quantificare è un lavoro lungo costante quotidiano bene molto bene next anche per te ci sarà una presentazione spettacolare di questa cosa beh io in un primo momento non volevo rispondere adesso ti sei ricresa come si dice da noi ti sei ricreso ti sei ricreso mi è ritornato in mente l'approccio con il teatro le domande a breve perché le risposte sono ancora più brevi delle domande già ridotte vai la 1 ricordi qual è stato il primo incontro con il teatro sì ma lo ricordo mi chiamò un amico e mi disse che stava lavorando con un regista a cui serviva una barca e secondo lui io potevo realizzare questa barca potevi impersonificare la barca feci una barca ah tu pensavo che ti aveva vestito da barca io non sono mai andato in scena come attore cioè non ho mai detto una parola hai costruito una barca per la scena per la scena per la scena e con questo spettacolo andiamo la seconda domanda qual è stata la reale prima esperienza sempre questa festival del Mediterraneo mi trovai in scena ad alzare questo palo di questa barca alto 12 metri la stessa barca in uscita però muovevo questa barca sapeva si chiudeva una storia lunga poi la terza cioè nell'arco della tua vita un evento un momento in cui individui come il colpo di fulmine si sempre questo spettacolo malefico la barca però non è stato lo spettacolo in sé ma il pre-spettacolo cioè il laboratorio fatto nel manicomio di Bicelli che era aperto anche ai disabili quindi c'erano emozioni continue di questa gente che partecipava con noi nelle danze bellissimo quarta domanda una volta appurata la scelta i processi formati il problema è che non ho scelto quindi mi sono trovato in mezzo a questa barca la famosa barca l'unica laboratorio che ho pagato è stato a Sant'Arcangelo col chismet il primo che cercavano cioè andai così per sempre laboratori mi spingevano a fare ed è stato l'unico che poi mi ha portato a fare la turma di Cilis col chismet quindi ho più guadagnato che spesso perché è stato l'unico laboratorio pagato e poi ho spesso per la musica altri laboratori perché sei un musicista questo processo di avvicinamento che cosa ti ha portato ad una vita bizzarra per il resto non so che altro dire al giorno d'oggi la settima al giorno d'oggi a che punto sei arrivato sto per partire ho preparato il passaporto ok ottimo e l'ultima allora se utilizzi la parola monetizzazione nel campo teatro che cosa ti viene in mente mi viene in mente di fare l'ennesima magia e questa volta ci sono riuscito cerco solo un produttore che investa su di me c'è da fare soldi per tutti solo che da solo non ci riuscirò cerchi un produttore col produttore tu riusciresti a monetizzare ok bene allora a questo punto mancano Isabella e tu come ti hai il tecnico non è riuscito a finire ha scritto anche certo anche lui Martini non ha preso tu Isa te la senti di leggerci no a me fa piacere cioè a noi fa piacere abbiamo anche un microfono sarò molto sintetica io sono molto absolute beginners in qualche senso quindi c'è non ho sì quindi insomma capiamo allora prima domanda è il tuo primo incontro con il teatro allora io ho questa immagine di me vestita con un vestito blu con le stelline dorate la becchetta magica dell'88 credo la recita della scuola ottimo dove teatro io l'ho preso dalla recita della scuola non so se vogliamo parlare di teatro guarda io c'ho scritto 1990 carnevale festa per le famiglie scuola elementare io ho questa una bacchetta però non ho questo ricordo di me che facevo questa che facevo la recita ho il ricordo della foto cioè ogni tanto mi capitava di rivedere questa immagine che mi piaceva molto ricordo più quello poi ovviamente l'ho persa questa foto non ho idea adesso dove sia poi la prima esperienza che potreste definire il stampo teatrale non ho risposto perché intendiamo teatro vero così o sempre ambito recite cazzate cazzate anche cazzalo e se parliamo qui siamo nel 92 grande 92 mio nonno ancora vive erano in campagna io organizzavo cioè mettevo in modo fascista io mia sorella e i miei cugini a fare lo spettacolo allora dove mia cugina faceva la fotomodella perché era più magra e faceva cioè varietà era ovviamente cioè faceva la sfilata poi facevamo le imitazioni di tutti quelli della contrada eravamo bravissimi io e mia cugina io la rappresentatrice scostringiamo gli adulti a venirci a vedere insomma questo io ricordo grandissimo cioè molto tipo però in campagna capisco la facciata della campagna cioè praticamente la nostra scena via campagna quelle tipiche rosse quelle della puglia il giardino degli ulivi no? sì quello dei ciliegi però c'è il neon mio padre al risparmio aveva già messo il neon quindi frankie sì frankie al risparmio esatto poi avevamo in pratica avevamo un baule con un sacco di pezze e quindi ci facevamo forse sono ricordi comuni a tutti non dico niente di speciale però ci facevamo i vestiti il pomeriggio e io mi ricordo c'ho la foto di questo vestito che era aperto e c'era uno spacco che partiva di qua a qua insomma mutande mutande in pre-pubertà come diceva già dei mostri che c'erano in giro allora poi era un evento un momento poi nel colpo di fulmia allora io mi ricordo esattamente 99 Castrovillari il festival quando facevamo il festival e quelli Motus andammo a vedere questo spettacolo sì andammo a vedere questo spettacolo dei Motus che era Orlando Furioso tipo 99 luogo anno come è accaduto degli amici andavano e io andai con loro andammo tipo in sé in macchina da Taranto a Castrovillari era l'epoca delle macchinate si fece la macchinata per andare a vedere uno spettacolo non mi è mai più successo l'emozione ero felice non so bene descriverla però è una sensazione di forse riconoscimento di alcune cose poi avevo 17 anni vedevo questi con i capelli capito c'è i Motus yeah abbiamo i capelli platinati per me era fighissima yeah così poi una volta appurata la scelta io ho fatto l'università e parallelamente ho fatto i laboratori tutti quasi a pagamento laboratori annuali o laboratori workshop Michele Di Stefano 2003 tutto molto pagato perché poi non ho mai pensato ad una sì sì perché non ho mai pensato ad una formazione di quelle ok formazione bando lettera di motivazione selezioniamo 10 persone per un percorso spesato a regione X no perché non mi sono mai sentita né avevo il tempo né mi sentivo in grado di farlo cioè mi hanno dato il mio curriculum che gli devo dire motivazione di che quindi l'ho pagato fino a quando niente tutto pagato formazione nel mondo del teatro è professionale diciamo che ho fatto questo mio progetto primo Irina Production e poi è professionale significato un anno fa un anno fa quindi absolute abbastanza absolute niente partecipare al primo scenario mandare lavoro chiedere spazio eh ah sì è vero teatro magro ho fatto un ospedante sì io non mi riposto sei cazzo di tutto te ma come è carino questo provini sì non mi prende nessuno cioè non ci ho mai pensato a fare provini ho fatto la mia iscrizione con l'Empers è venuta grazie a un film ho fatto una piccola parte in un film e quindi finalmente casualmente sono diventata ho avuto una matricola a Empers quindi parliamo di monetizzazione goodbye però 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 con Irina io guadagnavo tu non hai spiegato per niente chi è Irina cioè dillo lei mi ha dato lavoro esatto Irina Production mi hanno dato lavoro tu come hai iniziato con Irina? io ho iniziato ho iniziato ho iniziato da un giorno all'altro perché dovevo fare teatro dovevo iniziare a fare teatro io dovevo fare teatro adesso con cosa lo faccio con la prima cosa che avevo più o meno sotto mano che era questo personaggio che avevo fatto già nei miei laboratori qualche anno prima e poi tipo ero a Roma usciva spesso a fine serata usciva Irina per cui ho detto ok da cosa inizio inizio da lì ho cercato il primo pretesto perché non potevo aspettare ho iniziato a vedere a Roma la categoria registi categoria spettacoli categoria teatri di Roma mi faceva dove vado io lì non mi piace questo mondo anche le formazioni quelle quindi ho detto ok io inizio quindi ho iniziato a fare questa Irina e per riempire un'ora di spettacolo ho pensato di fare questo varietà in cui Irina e la rappresentatrice in video andavano le ospiti di Irina quindi di questo varietà quindi ho iniziato a fare video con me vestite in altro modo facendo altri personaggi che e quindi lo spettacolo era quello monetizzavi monetizzavo ed è stata una strategia per iniziare a fare teatro tutto a nero si è stata la molla che ok lo faccio con difficoltà spesso lo spettacolo faceva schifo non sapevo niente però ma arci situazioni club così arrivavo tutto a nero se mi pagavano il viaggio mi davano 100 euro da sola monetizzavo non è che ero ricca però guadagnai più da adesso era la vita che fanno un po' alcuni musicisti che lavorano nell'underground loro campano e hanno anche figli da questo sistema per cui è un sistema di sbattimento incredibile perché comunque non è che hai tutto però alle volte va quasi meglio perché perché non c'è non hai spese non hai non c'hai tasse non c'hai cose sì non hai però niente infatti è un ambito che ho mollato perché comunque era diventato diventa pesante soprattutto quando sei da solo così cioè magari arrivi lì non c'è nessuno e non ti pagano quello è brutto magari ti pagano me alcune persone che non sono serie ovviamente c'è gente molto seria che non lo fa questo processo di avvicinamento sì hai veramente iniziato ad essere un professionista sì e no più o meno il maggiore i lavori professionali in ordine ecologica suggerimento film niente e nel futuro abbiamo delle buone premesse al giorno d'oggi si è arrivato se è soddisfatto no non sono soddisfatta nel panorama teatrale ti collochi come una novità in potenza che insomma c'è però in potenza qual è il tuo ruolo la tua posizione attrice regia allora posizione sì faccio la regia scrivo con molte difficoltà anche questo insomma se utilizzassi la parola monetizzazione mi viene in mente che tutto quello che fai cioè dalle prove gli spostamenti e tutto che venga tutto pagato e abbia il suo giusto agio insomma io credo quella sia la misura del del non spendere insomma tutto a extra di tutto quello che guadagni questo grazie perfetto allora lo step successivo che avrei che avevo pensato nella mia testa era quello di teatralizzare questa cosa di renderla proprio un piccolissimo spettacolo di due minuti tre minuti in cui magari in un momento fai la stella in un momento dopo fai un pezzo di rina però allo stesso tempo riesci anche cioè proprio una vera drammaturgia per questione di tempo e anche per questione di empatia che si è creata tra noi oggi visto che comunque bene o male ci conosciamo un po' tutti e poi quella credo che in qualche modo l'abbiamo già fatto nelle risposte abbiamo trovato ognuno di noi che rispondeva in una maniera molto legata al suo modo di fare teatro ma soprattutto la cosa che più mi interessa anche legato al suo stare in questo momento cioè noi siamo attori contemporanei in questo momento cioè contemporaneizziamo rendiamo una realtà sulla nostra vera realtà detto questo io mi sento di rispondere al quesito che in realtà era il tema che non era una domanda ma io ci metto una domanda un punto di domanda alla fine come non smettere di fare l'attore come abbiamo fatto oggi conoscendoci dando una tra virgolette chiarezza sul nostro curriculum vitae confrontando le esperienze fatte e le prospettive con i nostri compagni e sperando che in questo nostro incontro si possa veramente creare quella rete di cui si parlava oggi di cui si parlava ieri di cui credo si parlerà anche nei giorni futuri io non credo molto nello speed date perché nello speed date fondamentalmente c'è un non so abbiamo utilizzato ieri questa parola sono questi incontri dove chi ha un progetto una rilevanza porta una sua cosa viene analizzata e viene finanziata se funziona o no io conosco un po' le modalità attoriali e anche soprattutto degli attori spesso e volentieri ci sono persone che hanno difficoltà a parlare con facilità dei propri progetti mi piacerebbe più che altro pensare che come mi son messo io oggi che è un caso forse a fare il mediatore ci fosse la possibilità ogni tanto di incontrarsi e di raccontare la propria storia il proprio stare oggi a fare teatro a essere attore e magari se tra il modo di porsi di qualcuno trovi qualche affinità chiedere di incominciare una partnership un modo di incontrarsi e da lì magari si inizia a monetizzare detto questo io vi ringrazio monetizzate 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 Grazie.